via per il ritorno partita emozione che si prospetta emozionate con l'andata finita solo 5 a 1 in casa tua vedrete che la rimonta sarà inesorabile mi metto anche seduto e non sdraiato sulla sedia quindi mi siedo proprio da gara giù da gara beh dai devi sederti ancora un bel po' per uscire a 5 gol no 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 finirà come guarda tu è un over da parte mia perché ti sottovaluto attenzione io ho fatto pochissimi cambi ma ho deciso di mantenere al 100% la mia tattica che ho usato poco all'andata devo dire l'ho usato poco sembrava brutto ma ho deciso di essere cattivo e irritante quindi stavolta userò la mia tattica e per fare questo ho messo due giocatori importanti ho fatto due cambi importanti anche io due è un obbligato perché sono corretto cambiamo vai avanti taglia di nuovo tutta stassata di roba l'arbitro fa lo stesso ce ne faremo una ragione la tua formazione questa è la mia che ovviamente in casa ci sono io è uguale a prima identica con la differenza che ok si è partito Walter Samuel al posto di Chiellini squalificato Garin e Walter Samuel al posto di Chiellini e Vidal invece io ho sempre il solito tre di difesa Silvestre Agbonne e Bocchetti che tante soddisfazioni mi hanno dato nella gara di andata anche a me esatto con il cambio sulle fasce dove metto a destra Bia Biani e Gonzales a sinistra che ha fatto ha convinto nell'ultima parte dell'andata ma cosa dici ha convinto ha convintissimo direi scusa non è vero fanno tipo 94 di velocità da una parte e 92 dall'altra e tanto è uno senso pronti pronti me lo sento me lo sento che prendo subito gol no no che faccio la cazzata e meno male che anche tu però non scazi non è proprio il miglior modo per iniziare una partita diciamo diciamo che devi fare 5 gol e se ne attacco io via 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 tutto a posto tutto a posto siamo pronti ah si no a chi a chi sei uno stronzo vai è che la chiudo subito cosa hai fatto ho detto non ci che io che arriverò già pronto a recuperare il pallone invece mi hai mancato di un metro si è tommoncato miseramente ho detto porca miseria mi ha preso invece dove è di qua di là è proprio in bocca a te diciamo in bocca al uomo più grosso del mondo è velocissimo mi hanno detto peccato mentre stavo passando il pallone basta con questi contropiedi hai rotto il cazzo su bello che li fa convinta le finte fa un rumore infernale uff c'è la differenza tra me e te che io faccio tanto il figo poi non riesco a tirare tu invece vai in porta col pallone no no che è lui turnover man ma il gol più imbarazzante della storia di pierre francesco cosa è successo cosa è successo no perchè no l'emozione di farti un gol bello comunque un autogol era non in caso vediamo dopo a fine primo tempo quanto era bello questo gol non so se puoi vedere sì qua hai due fenomeni basta guarda ma dai dove vai sono frustrato fai bene comincerà a staccarti delle gambe così per premio sei alto un metro e cinque cosa vuoi fare quanto siamo una zero dai fai spiri no no bella l'idea ma ci sono veramente un gonzales e quell'altro e vado sto perdendo la pazienza uno sei impuntato ha dato un calcio in terra nel frattempo è partito in velocità e vrà per dire ha smesso di partire in velocità ha fatto un buco incredibile però merda ma perchè non mi allargo e perchè non ci ho creduto prima allora ha detto non ci credo non ci ho creduto prima e ha detto non ci credo adesso invece devo crederci stavolta sta andando molto bene sono un uomo preso in autogallo incontro porco demonio ci fosse una volta che tiro in portale che palle che palle che palle ma che palle il galletto ma che palle ma perchè ma non è tutto uguale quelli pazzo ma perchè i buchi che sono qualcosa di importante l'ho messa ultradifesiva cazzo vai avanti che questo gol non ce ne frega una minchia vabbè hai fatto di far solamente sette gol mi farò basta tipo così iniziando così buco intanto uno lo portiamo anche idioti in porto andiamo a prendere il pallone via via bravo vai via 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 magari non facendo sicurare il pallone come il piero vai vai dubia basta con i contrasti a cazzo sono bruttissimi momenti questi non ho mai preso così tanti gol da te soffro la soffro la diretta che sono fortissimo soffro il live non so più che cazzo fare sono chiuso mi sono completamente perso neanche via la meta si è chiusa oh ok no bravo è velocità barzalli bravo no ti stacco le gambe a tutti i giocatori stai attento a quello che fai ma perché cosa c'ha questo vabbè che va a due allora se non posso andare a passare da qualcuno mi toccherà fra da solo che cazzo è successo vabbè ti vedo in modalità rimontiamola eh sì vero sì tutto scalcolato intanto questo passaggio a se stesso oh Gonzalo c'è una volta oh finalmente riesci a prendermi il tempo sullo scatto sulla fascia non si possa credere ho imparato peccato che questo non basti bello il cross che fa cross del genere basta avanza ma detto dei bei cross fallo ma perché basta ora lo cambio per la disperazione al 39 no ma non c'era nessuno che cos'era questo un tiro non lo so parco demonio via 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 incontro il pedo cosa c'è uno morto benì peccato è morto uno vaffanculo potrei fare una parata wow sono bruttissimi i momenti si sta vivendo un dramma uuu mamma mio leso close che sbaglia così un colpo di testa non l'avevo mai visto ma devo dire la verità che mi sbaglia così è proprio è la giornata che è stregata la giornata stregata per i colori gialloneri ma è un fa fischiarne uno così intanto contropiede piuttosto ti stacco la gamba ma finisci lordo vieni qua ora ti faccio l'incontro piede per punizione e un altro cartellino glielo diamo così ok la vedi fischia mai il tuo arbitro cosa fa le mani sotto no bella palla complimenti intanto è un peccato non bene non bene allora con calma no ho sbagliato cambio un attimo devo cambiare d'un via per la disperazione perché non è possibile fuori il mio ciccio cavani metto rodrigo per dire madonna basta cambio uguale a prima esce samuel chi esce oh giardinio e walcott dai 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 premi ah dimenticavo ho messo cossu invece di non mi ricordo anch'io ho fatto un po' di perdono mauro non la dico tipo a inizio partita ah si è vero basta no fenomeno ma dai mamma mia che brutte scene sono avvilito comincio a non crederci ragazzi cominci tutti i miei fan tutti i miei tifosi mi ho messo se ho sbaglio giovinco cominci a non crederci vai close sei un gatto di marmo di merda te i tuoi piedi come dei paracarri mamma mia bello bel passaggino anche questo bravo me che ho avuto questa idea perché si è fermato ora te la stacco una gamba tutto calcolato volevo giusto fare questo che campioni forza campioni forza campioni l'avevi mai visto te hai mai visto il cartone animato forza campioni quello dove c'è il tipo che muore in campo no quello che muore in campo era Giuliana Ross e Raulia Benji no no è proprio uno che muore in campo ah uno muore in campo? perché non l'ho vista tutte l'ho visto poco tipo fa un gol e poi muore perché era tipo di prima mattina ma scusa ma da quando è che hanno legalizzato il wrestling nelle partite di calcio? c'ha passato una serata intima appunto cioè mi ha dato delle mignote gli ha dato le vrà e ha portato un po' anche Ribéry qualche minorenne e va bene no ma pausa guarda cosa? fuori quel coglione di Zomingos entra avanti che non è geniale amici lo so che ci fate per me so che siete i miei grandi sostenitori ma comincio a non crederci comincio a sentire il peso della scuola perché cazzo ci fa cazzo allo sling fall fallo brutta Eva fallo maledizione brutto anche tra l'altro sì perché io cerco di farfalle non ti faccio mai male invece te mi fai un intervento mi stacchi due gambe non basta no t'ho visto t'ho visto vabbè va bene ma no che cazzo almeno portiamo la vittoria a casa su certo certo prendi sta cazzo di palla oh è benigno sento che senti la paura fai entrare Milito perché hai paura di prendere 5 gol in 20 secondi paura di calmo portini se avessi paura a morisco e tengo a giocare no no ho voluto straffare ho voluto straffare è la tensione lo so ho voluto fare anche una cazzata non marcando questo qua che era libero non sto ragionando sono un uomo stanco che veloce che ha lavorato tutto il giorno come un po' tutti gli uomini stanchi gli uomini stanchi che seguono il nostro saluto a tutti gli uomini stanchi che hanno lavorato tutto il giorno che vedono la partita intanto muore un altro che vedono gente che muore cioè ma veramente ma se vuoi ti porto due vergine da sacrificare se vuoi cioè nel senso non c'è problema ma cos'è che difendi in 32 non ho capito questo ho sempre difeso ma sei in 28 in campo c'è qualcosa che non va perché io ho un difensore ogni volta che vai in contropiede e invece tu hai 35 difensori hai da noi eh sì tua nonna ma anche no gervigno di stafavazza su ogni volta mi fai sto giochino poi fai le cazzate ti prendi anche un giallo eh no 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 te lo sei veramente vai close vai close maledetto vai vai e va vai oh è che cazzo venì e da qua cosa mi ci faccio tanto giallo giallo cosa me ne faccio di sta punizione da qui questo me ne faccio peccato non era una bella idea dai dai portiamo la vittoria a casa anche se oh vittoria porto a casa la vittoria per salvare la faccia ma perché ha questi problemi di controllo onda stavo cliccando e sembrava di giocare a sensible socher per un momento guardalo qua ok risolto ora a due minuti dalla fine ho capito come ma eh no ma guardalo ma puoi fare quel cazzo che ti pare non ho capito te lo sei portato a letto non hai portato a letto non hai portato dalle bagagio te lo sei proprio portato a letto tu sei solo invidioso perché io so questo stile di gioco che finora mi ha portato più vittorie che sconfitte non vorrei dire però sono lo stesso no si poi ti farò vedere il resoconto e prima o poi dovrai mettere in palio il memorial mangala ma perché che è tuo tra l'altro no non è mio è tuo no no e sono usato ultimo ah è vero allora dovrò mettere in palio il memorial mangala qualcuno ha vinto un torneo ma non lo sa di averlo vinto il memorial mangala è un memorial fatto il primo memorial calcistico a premi fatto aia fatto il memorial di un giocatore che sta ancora giocando un giocatore vivissimo vivo e che in attività tra l'altro quindi abbiamo questa particolarità memorial su persone esistenti viventi con nomi divertenti esatto mangala che vediamo adesso gioca nel porto nel porto gioca? gioca nel porto? gioca nel porto quest'anno si stessa quindi è anche buono da una squadrazza al porto quindi è anche buono via via gonzalez via gonzalez via gonzalez no no fallo no grazie grazie sarebbe altro che non vede ma suda vai incontro pedo cavani che sei lento come una merda di qua fai che sei da solo il stronzo di un closet sei lento c'hai un paracarro al posto del culo sei uno stronzo povero il culoso è anziano anche a te che fai gioca rivecchi facciamo i supplementari comunque no facciamo i supplementari mi sa no che amarezza che peccato vuoi fare i supplementari anche sei follo vai affanculo e guidiamo così basta via via difende paolo via no c'ero vai 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 dalla che brutta andavo a vifare un altro gol che peccato è finita no ma hai quasi vinto che brutta roba hai quasi vinto sono veramente amareggiato è andata meglio dell'altra basta saluta tu perché io non ce la posso fare sono veramente sono tutti con i miei 6 7 8 8 gol poca roba fai poco il figo che poi ci sarà il memorial mangala e sarà un'altra storia intanto io sfido la settimana che gioca con un tozino a destra come centrale di difesa quindi potrebbe essere battito prossima volta che faremo il memorial mangala ci sarà anche fabio scelta scelta la settimana la settimana l'hai vista? no adesso la vedrò una media orribile un saluto a tutti i miei tifosi che hanno creduto in me mi dispiace averli delusi ma sappiate che quando conterà sarà il momento in cui io farò valere le mie carte quale ma quali ok carte più o meno il 2 blu di 1 intendi quelle tipo potenza d'attacco per uscire gratis di prigione del monopoli ok saluti a tutti addio